e ora è andato via ogni cosa quando si passa sotto perchè si passa da lampioni perchè si fa una macchina con la luce dietro io si ma questa non neanche ci serve una sega sono da illuminare dietro o meno ma a me è una candela ora ci illuminano vedi? a seconda di ora è raffrescato si ma ce l'hai la legna la legna la va a prendere ci vuole troppo di legno per avviare il fuoco ma che ci vede? ma io non si vede nulla non c'era uno stop lì gli è arrivata la bussata gli è arrivata la bussata di piaccio ora ti vedi la gente gli è tutta impazzita per le strade ma a me le è presa in mano alla coda c'era in mano di coda si aspetta siamo allo stop qui ma c'è la macchina no allora c'è buio c'è buio è tutto appannato gli è appannato ma perchè non hai l'aria di arda ora accendo l'aria se gli dai via l'aria di arda non arriva però gli è buio uguale gli hanno detto ai telegiornali che gli arrivi il ghiaccio gli hanno studiato per dire che gli arrivi il freddo certo l'inverno ma appunto mi sembra ma poi dice copritevi dovete mettere le maglie dovete coprirvi perchè gli arrivi il freddo ma io lo sapevo meno male mi hanno detto guarda perchè io ci avevo sempre eh la canotta il costume il costume se non me lo dicevano ah 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 ha studiato eh ma io guarda gli hanno studiato gli hanno studiato sono gente dotta capito sono gente che gli hanno ora lo sai che chi è che fa trini eh i trombai ora gli schianta tutte le cardaie ah è vero è vero ora gli accendono tutti i panni mi hanno chiamare gli hanno spento ecco gli accendono tutte insieme e scoppiano e gli fa cortocircuito e gli scoppiano arriva ragazzi poi giù e spenderli poi dice quest'anno gli sarà l'inverno sì più ghiaccio degli ultimi 130 anni o come o come c'è il riscaldamento globale ma appunto non ci deve essere il riscaldamento globale ci vedo un altro anno vedo per ora si rientra ho capito ci pigliano per il culo ci pigliano per il culo ma senti eh ma ora poi tutti disperati eh ora piove ora ora gli avvia a piovere si lo dico io a febbraio eh è tutto un piovere di certo è l'inverno che doveva che doveva scusa gli ha studiato non li ha studiato per capire che piove d'inverno eh lo so dice di che d'inverno piove ma via oh vedrai la stagione di Aquila di Aquila che tu credevi che tu credevi di andare a a cerca' i cocomeri a dicembre non è che fa 30 gradi 30 gradi da coppe e volendo gli vendano uguali eh ma oh quelli ci sono sanno un po' d'acqua eh però ora tu vai prima eh c'era il cocomero per dire le fragole ora tutto l'anno supermercati tutto l'anno davvero frutta a diritto eh c'è da dire chi ci putteranno dentro ma ma infatti chissà che smangiano la merda è la merda la merda i sudici ci buttano i sudici ho raccaldato con la cassetta la cassetta la cassetta la buttano dentro voglio capire stiamo a Giormi a Giormi ma qui è sempre buio c'era uno bussato alla porta dice eh la fine del mondo l'è vicina sì io stavo lì vicino San Piacio gli disse dove è a Giormi se l'è vicino dove è la fine del mondo a Giormi infatti c'è lui tu ti rifererai eh ma ti rifererai aspetta io tutto appannato mi fai o si stai a vedere che tu va ah no aspetta abbassi il vetro se trovo ma dove la buttano in questa mano? qui è tutto nero aspetta ora è finito di là cominciano di là è sempre o si quando hai incroci tu ti butti in mezzo ti devi buttare a bischio non mi fai non mi fai non mi fai non mi fai ma ora arrivo chi mi sa eh poi ora allora comunque oh guarda qua aspetta il 22 siamo ai mille luci di Casal Guidi ecco ha detto anche Casale per far prima Casale Casal Guidi ai mille luci che andà a Cantagrillo non è un Casale di Prano Casal Guidi casal Guidi mille luci storico locale no no dancing dancing lì ci hanno fatto la storia lì ci hanno fatto la storia eh c'è stata serata da un street food si ci sarà dal lithium organizzata insomma ci sarà da mangiare ci sarà molti da fare buono 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 cercate l'evento si si e mi raccomando insomma partecipate partecipate venite poi tanto si pubblicarà tutto certo certo lasciate un like alla pagina ibellini il bellini il bellini si guaioli noi si va si va c'è da fare c'è da fare scendere il fuoco io ce l'ho andata a spengere il fuoco ah spengere eh vai ciao ciao buona